246 km da Policastro Bussentino a Serra San Bruno, dalla Campania alla Calabria, per la seconda tappa più lunga del Giro d'Italia, con due Gran Premi della Montagna, l'ultimo dei quali di seconda categoria a 7 km dal traguardo. Sette i fuggitivi di giornata, i francesi Berard, Le Bonemurey, l'olandese Likter, lo spagnolo Minghez, il greco Tamuridis e il trevigiano Emanuele Sella. La domanda del giorno è, riuscirà Luca Paolini a difendere la maglia rosa? Ad attaccarlo sono in molti, soprattutto con l'obiettivo di vincere una tappa, come Marco Marcato, tra i più attivi, insieme a Laziale Stefano Pirazzi. Avibo Valencia è una foratura complica, la giornata di Vincenzo Nibali, che con l'aiuto di Agnoli, comunque sostituisce la ruota posteriore e rientra in gruppo senza particolari difficoltà. L'attacco più efficace arriva a due chilometri circa dal Gran Premio della Montagna e lo porta Danilo Di Luca. Un'accelerazione violentissima del killer di Spoltore con lui, ma è al limite. C'è il colombiano Shalapud, che a fatica riesce a rispondere al 37enne abruzzese, ma i due vengono ripresi all'ultimo chilometro. E a 400 metri dall'arrivo Enrico Battaglini, 23enne Vicentino della Bardiani CSF, evidenzia anche tra i professionisti la qualità di grande finissore con cui si era tolto grandi soddisfazioni tra gli under 23 e va a cogliere un successo straordinario davanti al piemontese Fabio Felline e al siciliano Giovanni Visconti. Per Battaglini, che tra gli under vinse il Giro delle Regioni e aveva già vinto anche da pro dastegista, la Coppa Sabatini è un successo fantastico per la Bardiani di Reverbere una giornata da ricordare. E sul podio salgono l'Italia di domani con Battaglini vincitore di tappa e quella di ieri e di oggi con Luca Paolini, per il quale la favola rosa prosegue.